Musicarte nel Parco, 25esima edizione, assessore parliamo di arte, parliamo di musica, il suo assessorato è sempre attento a queste manifestazioni che coinvolgeranno tanti cittadini, manifestazione che si concluderà ad ottobre tra l'altro. Sì, è una manifestazione che festeggia le 25 edizioni ed è molto importante perché quest'anno è l'anno della ripartenza, lo stiamo definendo così già da tanto tempo, il fatto di poter ospitare presso le sale dell'Aurum questo evento così importante, fatto di tanti appuntamenti così prestigiosi per noi è molto importante. Sono tanti gli eventi che state portando avanti come amministrazione comunale in questa lunga estate, eventi soprattutto di carattere culturale. Sì, abbiamo puntato molto sulla cultura proprio per ripartire, per dare un segnale di positività, un segnale di rinascita, un segnale di ripartenza nel vero senso della parola e sono molto soddisfatta del fatto che tanti operatori culturali della città ci hanno seguito in questo progetto così importante. Ci tenevo a festeggiare il 25esimo anno di questa manifestazione perché è partita ben 25 anni fa al parco di Villa Sabucchi, perciò si intitolava Musica Arte nel Parco, addirittura per volontà del sindaco Carlo Pace all'epoca. Mi ricordo Carlo Pace mi accontentò perché avevo quest'idea di rinnovare lo spirito del parco con la musica. Questa manifestazione è piaciuta tanto e quindi è durata tanti anni. Poi a un certo punto ci siamo spostati all'Aurum perché ci siamo insediati nel parco d'Avalos, quindi nell'ambito del parco d'Avalos. Poi per problemi di pandemia e anche altre piccole vicissitudini il festival per due anni è stato bloccato ma comunque la musica non si ferma, infatti le cose più importanti nella musica sono le note e le pause. Quindi dopo questa pausa le note sono ritornate e soprattutto entusiasmate queste note dall'entrata dell'assessora Maria Rita Carota che ha creduto in questa manifestazione che sicuramente lei già conosceva così come anche il consigliere Armando Foschi. E quindi sono riuscita con pochissimo tempo, anche posso dire pochissime risorse, il Comune ha fatto il possibile. Grazie.